15 anni ucciso a Napoli, il monito di Don Patriciello, la città non può più far finta di niente di fronte alla morte di tanti giovani e giovanissimi. Così il parroco di Caivano sul delitto di Emanuele Tufano, ma la violenza dilaga nel napoletano due minorenni fermati con coltello e mannaia. Regione terzo mandato e scontro sul caso De Luca, il governatore accelera il 5 novembre il testo in aula per il via libera alla nuova norma elettorale, ma il centrodestra presenta la mozione di sfiducia Nappi, sbascheriamo il teatrino del PD e capiremo se c'è ancora una maggioranza. Addio alla piccola Francesca, eri tu il fiore più bello, dolore e lacrime nella chiesa di Fontana Rosa in Irpinia per l'ultimo saluto alla bambina di 10 anni, schiacciata dal cancello di casa, i compagni di scuola sull'altare, la commozione del parroco, ora sei accanto a Gesù. Benevento, caos trasporti, si cerca la soluzione, meno disagi oggi per il nuovo piano del trasporto pubblico dopo la giornata nera di ieri per la chiusura dello storico terminal dei bus, nel pomeriggio vertice in comune tra aziende, sindacati e confindustria per cercare un'alternativa. Aeroporto a Salerno nuove rotte internazionali, al costa d'Amalfi con Whitsayer si può volare a Budapest, Tirana e Bucharest, soddisfazione da parte dell'amministratore di Gesac, Barbieri e dei sindacati che ribadiscono la complementarietà dei due scali campani. Questi erano i titoli di oggi, ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel News. In apertura ancora l'omicidio del 15enne a Napoli, eri solo un bambino, ora avrai 15 anni per sempre. La città non può far finta di niente di fronte alla morte di così tanti giovani e giovanissimi. Così, Don Patriciello a proposito appunto del delitto di Emanuele Tufano. Vediamo. Emanuele, ci hai spaccato il cuore. Comincia così la lettera aperta affidata ai social con cui Don Maurizio Patriciello si è rivolto al 15enne napoletano Emanuele Tufano, rimasto ucciso durante una sparatoria tra gang rivali in Corso Umberto. Mentre le indagini vanno avanti e si stringe il cerchio sui partecipanti al raid, tra loro, secondo la polizia, anche minorenni di età inferiore a 14 anni e dunque non imputabili, il parroco di Caevano parla col ragazzo, ma è come se lo facesse, con migliaia di altri suoi coetanei. Perché avete imboccato quella strada? Perché quell'odio? Perché quelle pistole? Chi ve le ha date? Dove le avete prese? Sei morto senza un bacio, senza una carezza, come il più spietato dei camorristi. Le parole di Don Maurizio Patriciello, che riflette anche sulle responsabilità degli adulti, incapaci di educare, ma pronti a giudicare. La nostra città non può più fare finta di niente. Nel giro di un anno e mezzo sei stato ucciso tu, Gennaro Ramondino, Giorgio Cutolo, Francesco Pio Maimone. Quante vite spezzate, quanta violenza bieca e inutile ottosità. Riposa in pace ragazzo, adesso ritorna finalmente alla tua verità. 15 anni, 15 anni per sempre, conclude il parroco. Ma tra giovani e giovanissimi, la violenza è pane quotidiano. A Pollena Trocchia, i carabinieri hanno denunciato due minorenni di appena 13 e 14 anni, sorpresi in giro con un coltello a serramanico e una mannaia. Ci dobbiamo difendere, non si sa mai. La versione è data ai militari, che chiedevano perché girassero armati. Fu ucciso in un agguato di chiara amatrice camorristica, mentre percorreva Corso Novara a Napoli a bordo di un ciclomotore. Oltre 20 anni dopo, la polizia ha arrestato due persone e sono accusate di essere gli esecutori materiali dell'omicidio di Giuseppe Scuotto, avvenuto a Napoli nel maggio del 2000. Le attività di indagine condotte dal personale della squadra mobile della questura di Napoli sono state riaperte nel novembre 2022 a seguito di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Gli arrestati, già affiliati ai clan Licciardi e Contini, avrebbero commesso l'omicidio nell'ambito di una epurazione interna, riconducibile alla presunta gestione da parte della vittima di alcuni affari illeciti senza l'autorizzazione dei vertici del clan, oltre che alla paventata possibilità che Scuotto volesse intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia. Andiamo in Regione, adesso si accelera sul terzo mandato il 5 novembre il testo in aula per il Via Libera, ma il centrodestra presenta la mozione di sfiducia per il governatore De Luca. Vediamo. È iniziata ieri in una follatissima commissione affari generali al Consiglio regionale la discussione sulla norma che aprirà la strada al terzo mandato di De Luca, ovvero il ricepimento della norma nazionale del 2004. L'iter sarà brevissimo, tempo due giorni per gli eventuali emendamenti, poi il 5 novembre si vota in aula. Nonostante i contrasti tra De Luca e il Nazareno, i consiglieri del PD voteranno probabilmente il testo, Ma il centrodestra sfida i DEM e prova a stanarli, approfittando delle frizioni interne con il Presidente e con l'appoggio di Muscarat del gruppo misto, hanno presentato una mozione di sfiducia contro il governatore. Noi poniamo in evidenza una clamorosa contraddizione che riguarda il PD e le sinistre, perché se, come dicono formalmente anche sui giornali, nelle interviste, De Luca è espressione di un sistema di potere dal quale dopo dieci anni vogliono prendere improvvisamente le distanze, beh, allora non è che lo possono fare a partire dall'anno prossimo col nuovo mandato. Oggi devono mandarlo a casa, oggi devono far cadere queste amministrazioni che loro stessi riconoscono essere malata. Quindi noi vogliamo rompere questa ipocrisia, perché è evidente che devono scegliere. Resta in stand-by la nuova legge elettorale, con lo sbarramento al 3% e l'ineleggibilità dei sindaci sotto i 5.000 abitanti. Il testo presentato da Mario Casillo non convince i Mastelliani nelle liste dei partiti più piccoli, ma potrebbe trovare un consenso nei partiti di centrodestra. Una soglia di sbarramento quanto più alta possibile, perché evitiamo i partitini personali in cui si fa la lista per se stessi e con una piccola percentuale per compiacere il cacicco di turno, poi dopo di che si elegge il rappresentante. Andiamo in Irpini a dolore e lacrime nella chiesa di Fontana Rosa. Per l'ultimo saluto a Francesca D'Arienzo, la ragazzina di dieci anni schiacciata dal cancello scorrevole della sua abitazione. Vediamo. La chiesa Maria Santissima della Misericordia era piena già ben prima dell'arrivo del ferretro di Francesca, preceduto dai compagni di classe della Quinta B dell'Istituto Comprensivo di Fontana Rosa. Dolore e lacrime per l'addio alla ragazzina di dieci anni schiacciata dal cancello scorrevole della sua abitazione tra Fontana Rosa e Sant'Angelo Allesca sabato pomeriggio. Gli alugni e gli insegnanti hanno raggiunto l'altare tutti con mano un fiore davanti alla piccola bara bianca. I funerali sono stati celebrati da Don Angelo Gaeta che visibilmente commosso nella sua umilia si è rivolto direttamente a Francesca. Era il fiore più bello e più profumato e Gesù ti ha voluto subito con sé per un disegno che a noi non è dato sapere. Per un misterioso disegno o destino hai raggiunto la destinazione finale. Certo, anche tu, come un guerriero, sei partita da questo mondo con segni e feriti di una battaglia che ti rende onore. Tu, dolce e delicata, hai assaporato in pochi attimi l'amarezza della vita crudele, ma sei rimasta vittoriosa. Sì, hai vinto, perché ci hai dato un assaggio delle tue buone capacità nella breve tua esistenza terrena, sorridente, gentile, disponibile, servizievole. Al termine della funzione è particolarmente toccante il momento dei ricordi, affidati a una cugina di Francesca e alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo. Torniamo a Napoli. Pensionati in piazza contro i tagli alla sanità e alle pensioni. Vediamo Maria Teresa De Lucia. Pensionati in piazza a Napoli per la manifestazione regionale promossa dalla CGL Campania contro i tagli alla sanità pubblica e alle pensioni. In Campania si è poveri tutta la vita l'amaro messaggio del segretario generale Franco Tavella dal palco in Piazza del Gesù. Se noi pensiamo alle pensioni private, in Campania c'è una pensione di 840 euro mensili. Campania si è poveri tutta la vita. Si è poveri quando si lavora perché il lavoro è intermittente, perché il lavoro è lavoro nero e quando si è anziani si raccoglie il frutto di quei contributi versati. A fronte di questo scenario immaginare un aumento di 3 euro mensili 10 centesimi al giorno mi sembra un'offesa e una vergogna per i pensionativi della Campania. Il messaggio che ne diamo al governo è di modificare sostanzialmente è una scelerata manovra in un paese in cui ormai da tanto tempo e con la manovra peggiorerà la condizione diventare povero una colpa e ammalarsi rischia di essere un lusso per poche persone. Noi crediamo, ha aggiunto Landini, che le pensioni vadano rivalutate. Ce le siamo pagate tutte fino all'ultimo centesimo. Le pensioni non sono il gratta e vinci, non sono una concessione. La Campania oggi ha la più alta percentuale di migrazioni sanitaria in calza invece Ricci. Siamo anche qui per un appello alle regioni Campania perché la sanità diventi davvero centrale in questa battaglia contro il governo che non investe in sanità. A Benevento diminuiscono i disagi del nuovo piano trasporti dopo il caos di ieri quando è scattata la chiusura dello storico terminal in centro città. Oggi pomeriggio intanto vertice in comune per trovare un'alternativa. Sentiamo. Qualcosa deve ancora essere modificato ma con il passare dei giorni la situazione migliorerà. L'amministrazione guidata da Clemente Mastella stamattina all'alba in strada per verificare il nuovo piano trasporti e traffico varato per la chiusura del terminal dei bus extraurbani che ieri aveva creato il caos anche perché alcune aziende del trasporto pubblico regionale non avevano aderito all'inmito di effettuare una fermata in Miamustilli per far scendere gli studenti degli istituti della zona centrale e bassa della città. Oggi l'ordinanza è stata recepita da tutte le aziende e la situazione è migliorata anche se il numero degli studenti era inferiore per via delle assemblee d'istituto. Hanno oggi rispettato l'ordinanza e quindi i ragazzi non hanno avuto nessun disservizio nessun problema il piano traffico funziona bene se c'è da dover rimare qualcosina ipotizzavo insomma al semaforo che crea magari qualche piccolo rallentamento. Nel pomeriggio comunque ci sarà una riunione in comune tra le aziende del trasporto pubblico regionale sindacati e confindustria. Abbiamo fatto una riunione con le aziende il 7 agosto a cui avevo rappresentato il tutto peraltro anche se non rientrava nelle mie competenze ho fatto una riunione con la regione Campania chiedendo alla regione Campania di poter ristorare di chilometri in più che le aziende eventualmente faranno e che andranno a quantizzare e che a seguito di un'ordinanza dirigenziale o sindacale la regione deve ristorare necessariamente Nuove rotte internazionali all'aeroporto di Salerno con Witser ora si può volare a Budapest Tirana e Bucarest Sentiamo Sarabotte Dopo un'ottima stagione estiva nonostante la partenza in ritardo con l'inaugurazione dell'aeroporto a luglio al Salerno costa da Amalfi sono arrivate nuove destinazioni internazionali Witser ha inaugurato i suoi primi voli lunedì è decollato il primo aereo verso Budapest capitale dell'Ungheria prima rotta anche verso Tirana e Bucarest soddisfatto l'amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri che ha chiarito come l'arrivo di una nuova compagnia sia un'ulteriore dimostrazione dell'attrattività sui mercati del sistema aeroportuale campano e della complementarità dei due scali come ribadiscono anche i sindacati Gesac va ribadito che ha mantenuto l'impegno di due piste e un solo aeroporto perché va ricordato che sia Salerno che l'aeroporto di Salerno che l'aeroporto di Napoli lavorano in piena sinergia non sono in contrapposizioni ma sono in piena condivisione di tutti i piani sia di sviluppo per i viaggiatori che di sviluppo occupazionale l'aeroporto salernitano è pronto a crescere ancora chiarisce Arpino siamo convinti che con la Winter 2025 e la Summer 2025 ci sarà il definitivo salto di sviluppo dello scalo ora si deve accelerare però sulle infrastrutture che insistono sullo scalo di Salerno mancano due tasselli fondamentali all'interno del puzzle lo sviluppo della nuova stazione aeroportuale e il collegamento definitivo della metropolitana leggera andiamo al carcere di Bellizzi Avellino dopo l'ultima aggressione e i danni di un detenuto ridotto in fin di vita questa mattina visita ispettiva dei garanti dei detenuti sentiamo Paola Iandolo carenza di personale capienza oltre il limite consentito e poi problemi di tossicodipendenza e psichici questa è la fotografia del carcere di Avellino dove da 400 detenuti oggi ne conta circa 600 e ritenuto ormai il penitenziario tra i più pericolosi d'Italia oggi una nuova visita a Bellizzi da parte dei garanti dei detenuti Samuele Ciambriello e Carlo Mele i due hanno fatto visita ai detenuti in seguito alla violenza che si è scatenata l'altra notte con un detenuto ridotto in fin di vita da un compagno di cella i garanti lanciano un appello forte e determinato al dipartimento sia sabato che martedì in tutto questo istituto mega galattico quattro agenti cinque agenti noi chiediamo che non sia smantellato la sezione di alta sicurezza da Bellino perché sarebbe la deportazione di altri detenuti fuori zona tra l'altro non è da questa sezione che è partito il raid punitivo è un clima pesante noi chiediamo al di là delle responsabilità dei singoli di evitare che accanto al danno poi ci sia la beffa per i detenuti che studiano per i detenuti che lavorano per i detenuti che si comportano bene oggi noi garanti siamo venuti insomma per capire meglio per cercare insomma di ascoltare io ho ascoltato anche alcuni detenuti ci sta a cuore ci deve stare a cuore insomma questa situazione i drammi purtroppo Avellino è sotto lo sguardo non si a livello nazionale vorremmo capire perché insomma c'è qualcosa che non funziona cambiamo decisamente argomento l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ad Otto Channel ricorda Diego Maradona alla vigilia del compleanno del Pipe d'Oro vediamo domani Diego Maradona avrebbe compiuto 64 anni Napoli è in fermento con il pellegrinaggio di turisti al Murales dedicato e un ricordo speciale del campione che è stato affidato ad Otto Channel nella sua redazione napoletana da chi ha reso possibile tutto ciò l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino però la vita è quella che è ma la donna non ci sta più io sono andato a trovarlo in Argentina sono andato dove lui è sepolto già due anni fa era un obbligo per me di andarlo a trovare e anche il luogo del Murales per l'ingegnere è diventato un luogo simbolo per vari motivi come ha spiegato nell'intervista che andrà in onda in versione completa in uno speciale dedicato a Maradona io a questa piazza diciamo piazza Maradona ci sono andato molte volte perché per me è una soddisfazione vedere i napoletani che impazziscono ancora per Maradona anche se Maradona non c'è più non solo i napoletani ma anche ha generato turismo anche un indotto economico ha generato turismo a me il turismo mi passava anche pagato mi importa che i napoletani lo amano ancora incentivare le nozze nelle aree interne per rilanciare economia del territorio indotto la sfida passa per l'Irpinia e vede come protagonista Casa Reale a Sturno pronta ad ospitare l'evento dell'anno con Maria Grazia Cucinotta una fiera sposi dedicata al matrimonio che mira a valorizzare il territorio e le sue grandi potenzialità dalla piccola Svizzera dell'Irpinia a Sturno ecco Casa Reale in tutto il suo splendore pronta ad ospitare Maria Grazia Cucinotta per un evento straordinario ricco di novità sorprendenti in programma il 30 novembre e primo dicembre siamo sempre pronti per le nuove sfide per le nuove attività e per rilanciare un po' questa struttura che comunque aveva perso un po' l'avviamento su quelli che comunque erano gli eventi sulle spose abbiamo organizzato questo evento proprio per pubblicizzare al massimo la struttura e il 30 novembre e il primo dicembre avremo l'onore di avere qui in Irpinia per la prima volta anche un ospite d'onore come Maria Grazia Cucinotta nell'ultimo anno abbiamo fatto diverse cerimonie tra cui comunione cresimi, battesimi compleanni però pochi matrimoni per quello vogliamo rilanciare la struttura sui matrimoni a fare gli onori di casa insieme al patron Giancarlo Molinario sarà il sindaco Vito Di Leo questa struttura è una struttura bellissima e merita tutta l'attenzione nostra dei territori limitrofi questa è una struttura che noi abbiamo come dire sempre attenzionato noi stiamo facendo di tutto come amministrazione comunale insieme per la verità ad altri comuni vicini per promuovere queste nostre eccellenze e questa è una di quelle io la promuovo sempre l'ho segnalata a varie personalità che si interessano del territorio che si interessano di turismo un turismo però anche di qualità e va bene è tutto per questa edizione di 8 Channel News grazie regia ad Aldo Fenizia vi lascio alle previsioni del tempo arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.